Ciao a tutti ragazzi, sono... Abbassiamo un attimo. Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia Nototto Inter, siamo su... Bloody Harry! Sono pronto a mostrarvi questo gioco, intanto, prima di partire, sia su Facebook, c'è la nostra pagina Planet Games, dove vedrete tutte le nostre cose, tutti i nostri link, tutto quello che volete, le foto e tutti gli approfondimenti dei videogiochi su iPhone. Per ora faremo video su iPhone e PC. Ok, si parte! Play! Ok ragazzi, io sono già, diciamo, avanti. E andiamo avanti allora. Tam. Si. Andiamo avanti. Vi farò vedere un livello, perché se no vi piace... Potrebbe lagare, ragazzi, io ve lo dico. Potrebbe lagare. Fanculo. Beh, infatti sto lagando di brutto, mi scuso, eh. Morto. Headshot. Che cazzo è che mi uccide? Fa culo. Headshot. 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 Eh, mi stava baggando, ragazzi. Sta la gamba, sta la gamba. Bello morto. Headshot. Fanculo, è mortale. Oh mio Dio. Immortale, è mortale. Ok. Ok, signori, abbiamo liberato anche una cosa. Ah, sì, abbiamo finito le munizioni. Fanculo. Ciao, 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 baby. Cazzo. What the fuck? Ok. Adesso ci capiamo, signori. Attenzione. Vita, vita, vita. Molto bene. Cazzo, se lo va. Uh. Ah, vedete, ci sono i colpi. Prendiamo i soldi. Finito, signori. Ultimo colpo. Ole. Un gioco bellissimo. A me piace. Devi fare... Headshot. Attenzione. Mamma mia. Eh, scusate se va l'agra. Scusate. Headshot. Attenzione. Un'altra headshot. Cazzo, cazzo, cazzo. Boom. E abbiamo vinto. Signori, vinto. Abbiamo vinto. Vi assicuro. Eccolo qua. Abbassiamo un po' che non mi sentite. Bene. Abbiamo vinto. No. Non voglio niente. Later. Ok. Bene. Eh, abbiamo vinto. E fra un po' ci prenderemo questo. Ma non abbiamo soldi adesso. Eh, andiamo avanti. Così vi faccio andiamo avanti ancora, dai. Molto modo. Livello. No. Lo farò due. Se vi piace... Livello 5. Se vi piace lo farò molto volentieri questo gioco. Questo che mi piaceva. Un casino a me. Attenzione. Headshot. Headshot. Fa un culo, fa un culo, fa un culo. Scappa, 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 scappa. Boom. Attenzione. Boom. Headshot. Soldi. Eh, è un po' difficile questo livello. Ragazzi, io non sono un videogiocatore sulle... Forca puttana. Headshot. 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 Grande, 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 signori. Si sta stragasando. Oh mio Dio. Oh mio Dio, signori. La potenza. Prendiamoci i soldi. Oh mio Dio. Headshot. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio dio La strage Posta Italiana Doppio Double Double Fanculo Eh abbiamo fatto le munizioni Fanculo Eh si Bastardo Iiii Fanculo Fanculo Adesso Attenzione Morirò 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 Scappa 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 Sono immortali Devo scappare Devo scappare Devo prendere la corona Che è finita Si Mamma mia Qua l'ho rischiata Grossa ragazzi Saliamo Missioni 9 Ok Cos'è sta roba Coins Coins Andiamo su Coins Sta caricando Molto molto bello Questo gioco A me piace Guardate quanti soldi E andiamo A fare L'acquisto Di questo Adizione Eccoci qua Signori Il prossimo acquisto Sarà il Quello a 3000 E passa Quello lì Quindi da Matano tutto internet È tutto Per adesso È veramente Tutto Vi lascio 10 secondi Di musichetta epica E dopo Chiudo Ciao belli Sì Grazie.